Marco Antonio Neto, Marco, le tue sensazioni di questa prima vittoria in campionato? Io credo che questa prima vittoria è troppo importante, credo che sappiamo che questo equipo era un equipo difficile per noi, che era una squadra diretta nella nostra aspirazione di conquistare l'Escudetto e anche facciamo una partita troppo nerviosa in alcuni momenti, con la equivocazione di tutti, prima io, che ha fatto un grosso errore al salire con una rosca diretta, un grosso errore di me, però credo che mi sento orgulloso di che l'equipo ha potuto essere insieme nei ultimi minuti, essere tutti insieme, uniti e che hanno potuto mantenere il risultato e portare la vittoria, questo credo che è lo principale.